A parte dalla Casa della Salute e da Gabice questo tour sui territori per far capire quanto i territori hanno bisogno del presidio di guardia medica. Sì, i territori hanno molto bisogno del presidio di guardia medica perché come noi abbiamo scritto anche nel volantino che stiamo distribuendo è un anello fondamentale della catena dei servizi a livello territoriale. E la mancanza di medici è una responsabilità della giunta di centrodestra perché i nostri consigli regionali fin dallo scorso anno hanno fatto interrogazioni, proposte, dando anche un contributo, non solo segnalando le problematiche, ma il presidente Acquaroli e l'assessore Stata Martini dallo scorso anno si sono impegnati a fare il contratto, ad esempio una delle questioni che doveva essere risolta solamente nel mese di aprile. Ecco, questo ha significato far perdere molti dei medici che erano disponibili. Quindi noi vogliamo con queste iniziative andare proprio al cuore delle problematiche che sentono i cittadini e mentre altri parlano, ecco, noi cerchiamo di stare vicino alla gente, di coglierle gli aspetti delle problematiche e poi riportarle in sede politica, in sede istituzionale per fare in modo di risolvere queste questioni. Iniziamo oggi da Montecchio, poi saremo a Gabice più tardi e proseguiremo in tutte le diverse cittadine della provincia di Pesaro Urbino in cui sono state chiuse le postazioni di guardia medica totalmente o parzialmente. Siamo arrivati a 10, come un domino, la giunta Acquaroli ha iniziato chiudendole una ad una da Montecchio fino ad arrivare a Fano, a Mondolfo chiusa totalmente, poi addirittura accorpando Mondavio e Pergola. Urbana in queste ultime settimane sono stati ridotti i turni e a Gabice fortunatamente fino al 31 agosto è aperta solo la guardia medica turistica ma poi sarà di nuovo buio totale. Chiediamo che non si risparmi più sui compensi ai medici di continuità assistenziale, come è avvenuto in questi due anni di giunta Acquaroli. Chiediamo che si intervenga al più presto per abbattere le incompatibilità, ovvero permettere anche ai medici in pensione di continuare a lavorare laddove lo vogliano perché in questi anni, in attesa che arrivino i medici attualmente in fase di specializzazione è indispensabile trattenere quelli che possono dare un aiuto per non chiudere i presidi di guardia medica come del resto stanno facendo le altre regioni. Ricordo che quando governavamo noi questo servizio c'era dappertutto, quindi non si può dire che è colpa del centro-sinistra. Quando c'era il centro-sinistra le guardie mediche c'erano, oggi invece che ormai è da oltre un anno e questo servizio non c'è, bisogna che chi governa ci assuma le proprie responsabilità. Dall'altra parte la cosa molto grave è che i contagi, è vero che questi giorni proprio sembra che stanno calando ma in realtà i numeri sono veramente molto importanti e noi ancora ad oggi a livello regionale non abbiamo riattivato il servizio delle USCA. Le USCA sono quel servizio medico che andava direttamente a domicilio, cioè i medici che andavano a visitare le persone colpite dal Covid, quindi che avevano bisogno di un'assistenza domiciliare, oggi nelle Marche siamo praticamente sprovvisti di questo servizio. Su 19 USCA a livello regionale che c'erano, fino a qualche settimana fa ce ne è rimasta solamente una. Come sindaco abbiamo inviato oramai decine di lettere per quattro cose fondamentali. La prima è il ripristino della guardia medica, il secondo è il ripristino dell'apertura sabato mattina, terzo, la necessità di fare tutti i vaccini dentro la casa della salute degli over 60 anni, tutti quelli che vogliono fare i vaccini, non si capisce perché dovrebbero andare a peso. Quarto, il potenziamento della casa della salute che è fondamentale per poter fare tutto quello che non è ospedale, perché poi se no vanno a Pesaro, a Dancona, a Urbino, piuttosto che farli andare a Morciana, a Cattolica, a Riccione, a Rimini, pagando una barca di quattrini e la regione per la mobilità passiva, come si dice. Quindi questi quattro obiettivi, una sensibilizzazione e un sollecito anche di una forza politica penso che sia importante. Io ho un dialogo continuo e costante con il Presidente e gli Assessori, però fino adesso i risultati pochi. Spero che anche questa sollecitazione possa servire a dare una mano a risolvere i problemi.